Il tema chiave del gruppo bancario operativo ICREA è che la sostenibilità sia un tema trasversale, ossia che non vada compartimentato in settori o cataloghi prodotti sostenibili. Questo è un discorso che deve essere valido sia per le imprese, sia per le istituzioni, sia per la banca stessa, quella che io rappresento e per tutte le altre. Questo diriva anche dai risultati della ricerca che è stata presentata oggi dal forum per l'amminanza sostenibile nell'evento della Commissione Giovannini, nel quale appunto lui stesso ha recuperato questo concetto fondamentale, istituzioni, approcciarsi alle nuove normative, visione economiche, incentivi, devono farle e devono proporle esclusivamente come sostenibili. Stessa cosa le banche, catalogo prodotti sostenibili e no, non esiste più, solamente prodotti sostenibili. Idem le imprese non possono lavorare con dei settori dove si occupano di sostenibilità e altri no, tutte le loro attività perlomeno attendere devono andare verso la sostenibilità.